Eccoci qua cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, buon sabato, benvenute, giornate piovose, insomma speriamo che siate tutte con me perché abbiamo una collezione veramente bellissima, per non dire strepitosa, cioè veramente di tutto e di più nuova collezione, occasioni nuove, anelli con brillanti, anelli con smeraldi, anelli con zaffiri, veramente di tutto e di più alle mie spalle in croma è solamente un pezzettino di un bracciale amiche meraviglioso, firmato, tutto eseguito interamente a mano se non ricordo male con 135 carati di materiale, quindi questo mi sembra veramente un gran bell'inizio, ci sono anche delle cosine belle firmate tutto veramente a prezzi come sempre convenienti, io mi avvicino al primo lotto che tra l'altro è un anello molto carino anche questo visto che è firmato, non è una di quelle firme altisonanti